Benvenuti nel mondo degli orologi Ballwatch. Ballwatch è stata fondata nel 1891 da Webb Ball, un uomo che aveva un unico obiettivo, creare orologi estremamente precisi per evitare incidenti ferroviari molto frequenti a quell'epoca. Webb Ball venne stimolato a creare un orologio preciso per evitare che ci fossero altri incidenti come quello del 1891 tra un treno postale veloce e un treno passeggeri. L'incidente fu causato dall'orologio del capotreno che smise di funzionare per quattro secondi prima della partenza, causando la collisione tra i due treni. Da qui, Ball definì l'assoluta necessità della presenza di quattro orologi certificati Ball su tutti i treni merci in transito. Ogni due settimane, questi orologi venivano confrontati con l'ora standard dell'Osservatorio Navale di Washington, per garantire la massima precisione. Da allora, Ball Watch è diventato sinonimo di precisione e qualità, ed è stato una parte essenziale nel creare i requisiti di prestazioni e precisione per gli orologi ferroviari. Il marchio ha mantenuto la sua reputazione di qualità e precisione anche nel mondo dell'aviazione, con orologi che soddisfano i rigorosi standard dell'industria aeronautica. Ma non è solo la precisione a rendere Ball Watch un marchio di grande successo. I suoi orologi sono anche eleganti e robusti, adatti a ogni occasione. Con una vasta gamma di stili, dal classico al moderno. Uno dei modelli più popolari di Ball Watch è il Tremaster. Questo orologio è stato progettato appositamente per i ferrovieri, con un design elegante e robusto che resiste alle dure condizioni di lavoro. Il Tremaster è dotato di una cassa in acciaio inossidabile resistente all'acqua, con una leggibilità eccellente in ogni condizione di luce. Il movimento meccanico automatico di alta qualità garantisce una precisione eccezionale, mentre il cinturino in pelle di alta qualità completa è il look classico del Tremaster. In conclusione, Ball Watch è un marchio di orologi che ha una lunga storia di dedizione alla precisione e alla qualità. Dai suoi inizi come fornitore di orologi ferroviari e ai suoi giorni come produttore di orologi eleganti e resistenti, Ball Watch ha mantenuto la sua reputazione di eccellenza. Se stai cercando un orologio di qualità, non esitare a dare un'occhiata alla collezione di Ball Watch, troverai sicuramente l'orologio perfetto per te.